La categoria D, i premi sono ancora una volta offerti da Nincini Sport Alberto Antonelli, quinto classificato, Circolo, Arci, Travale quarto classificato, Michele Rossato, Trisport, Costa d'Argento medaglia di bronzo, categoria D, Luca Pengo, Pieve e Ripoli terzo classificato, Luca Pengo, secondo Giovanni Infante, Grosseto, Team Marathon Bike Christian Fois, Costa d'Argento, 1, 16 e 29, è il vincitore nella categoria D questa mattina un applauso, consegna i premi Veronica un'altra foto, ricordo e andiamo a premiare le ultime tre categorie grazie grazie Grazie.